I pontili non sono opere qualsiasi che mettono insieme progettisti, imprese e il sindaco che inaugura. Sono opere che raccontano il mito, il mito dell'estate, il mito del mare, il mito della bellezza, della gioia di cui abbiamo bisogno in questa stagione di pandemia. Io questo pontile lo vorrei dedicare proprio al ritorno della normalità. Un milione di euro è il valore economico dei lavori per il recupero del pontile di Roseto degli Abruzzi. La copertura finanziaria era stata individuata dalla precedente giunta regionale, quella guida da Alfonso. Questo è un finanziamento che costa zero al popolo abruzzese. Vale la cifra che il sindaco ha potuto impegnare perché abbiamo pescato nei fondi del Cipe. Facemmo in quella stessa occasione il finanziamento del pontile di Roseto e del pontile di Francavilla al mare. Condizioni meteo permettendo, il sindaco di Girolamo è fiducioso di completare i lavori entro sei mesi. È un'opera che rilancerà Roseto, ha dichiarato il primo cittadino. I turisti torneranno copiosi, secondo me, anche la prossima estate. Non troveranno la possibilità di passeggiare sul nostro pontile perché sarà temporaneamente bloccato, ma intanto vedranno un segno tangibile di fiducia nel futuro. Io sono convinto che a livello simbolico quest'opera ha una grande importanza, oltre che a livello economico. La presenza di D'Alfonso a Roseto ha una duplice valenza. Qui, infatti, dopo lo slittamento a causa Covid, in autunno ci saranno le elezioni amministrative e in ballo c'è il secondo mandato del sindaco di Girolamo. Il senatore su questo non si è sbilanciato, ma ha mandato un chiaro messaggio ai possibili rivali in seno al PD di Roseto. Non è tempo di farsi dispetti, ha detto D'Alfonso. Io mi auguro che Roseto, che ha un ruolo traino nella provincia di Teramo e in Abruzzo, non debba essere segnata da quel gioco tutto retroverso che è la dispettosità. Ci conferma che sarà lei il candidato del centrosinistra? Guardi, la politica è quanto mai fluida, il quadro politico è quanto mai in evoluzione. La mia ricandidatura è sul tavolo, finora non è messa in discussione dal mio partito, ma ripeto, poi di qui a settembre, di qui ad agosto in politica tutto può accadere. Vedete quanto è fluido il quadro politico in questa fase. Io vorrei completare un lavoro, spero che ci siano le condizioni naturalmente.